Cazzo dopo ti muro. Ah, semmai mi è muto? No, ti muro io dopo più tardi, tranquillo. Ok, ok. Come stai? Bene, bene. Ok, ok. Come ti chiami? Su PC, so Chris, Christian Hs 104, so sempre io. Ah, 104. Sì, è il nome esodico. Eh, solo di nome, non de fatto, però. Sì, sì. Ok. Rimontante è quello, dai. Su Brew Stars, invece, sono SCP. SCP. SCP? Sì, so io. Ah, eccolo, SCP, quello che gioca sempre con me. Sì, 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 ok, ok, grande. Allora, dicevamo, vediamo se ci sta qualcuno che vuole giocare con me qua. Vediamo un po'. C'è qualcuno che vuole giocare con me. Sub. No, non c'è nessuno. De sub, non c'è nessuno. De non sub, però è un problema, perché dopo li posso invitare anche senza... senza averli tra gli amici? No, è impossibile. Eh, mi serve, no. Ah, no, c'è troia. Questo è un grosso problema, invitarli senza gruppi eccessibili. E non c'è qualcuno tra gli amici? No. Dovrei creare un altro account dove invito, proprio, mando la richiesta a tutti, gioco... Dovrei farlo. Ma sì, ma tanto sono due partite. Allora, io vi invito pure su TikTok, però dopo chiudo... Non causo problemi... No, no, non è quello il problema, Redda. Vi invito, ragazzi, però dopo vi levo l'amicizia, va bene? È un problema? Sandino, mo' non li sta? Sandino, no, 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 Sandino non ho niente. Allora, vediamo. Se stai un pochino attacco. Una partita, una partita a testa, ragazzi. Allora, vediamo un po'. Chi è che vuole giocare, allora? Mi servono i vostri nomi. Sia adesso Twitch che su TikTok, leggo tutte e due le chat. Allora, dottori Jogger. Eccone uno, ne prendo. Uno da Twitch e uno da TikTok. Da Twitch questo. Ok. Vai. Dopo te levo l'amicizia, eh. E uno da TikTok, io. Uno random, ragazzi. Il primo che capita, io. Ma che RP? Ma RP è per bambini... Veramente che hanno problemi. Allora, qua, il primo che ha scritto è... Chaos Tenebra. Chaos... Tattino basso. Tenebra. Tene... Tenebra. Non te trovo. Tenebra. Ho scritto bene, non lo so. Dennis.travi. Il primo... I primi che mi vengono qua. Ah, un amico in comune pure. Tu pensa, io andiamo. Ok. Se mi mandate voi la richiesta per partecipare al gruppo, vi ringrazio. Eh, qua, ha voglia di cercare. Ha voglia di cercare qua. A Pupazzu si è abbonato. Grazie, Pupazzo. Come stai? Un bacio enorme. Grazie mille. Mi dovete mandare la richiesta per... Ok. Dennis.travi l'ha accettato. Per partecipa dentro. Ok, questo vuole unirsi. E... E... Dennis.travi. Vediamo un attimo se ci saranno altre richieste per partecipare al gruppo. Ah, Dottor Gioca, ecco. Vai. Ok. Accetta. Perfetto. Ci siamo, squadre. Bella, Matte. Ciao, ragazzi. Come state? Sì, sì, ti se sente? Forte, è chiaro. Dizia. Ciao, ciao. Forte, è chiaro. Ci sente? Matte, ci sente? Sì, 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 sì. Allora, non porto più RP, ragazzi, sta scritto su YouTube. Già, no, sta scritto. Attacche SRP. No, se uno va qui sul canale YouTube, avevo pubblicato un video. Ah. Non trovo? L'amicizia a tutti. Non lo trovo, ragazzi. Ma voi che state in chiamata, voi lo sapete dove sta il video, quello che, dove parlavo che non giocavo più RP? Eh, mi sa, sta, tanto giù. Ah, un nuovo inizio, me sa, ecco, ecco, ecco. Sì, 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 quello lì, un nuovo inizio. Un nuovo inizio, questo qua. Tre settimane fa, tre settimane fa. Tre settimane che non gioca RP, wow. Eccolo, lì, lì sta scritto tutto. Mettete pronto, dottor Gioca, devi mettere pronto? Sì, sì, sì. Sto mettendo pronto. Comunque, grazie per avermi fatto entrare, Matteo. No, Matteo, sei un grande, c'è proprio a fare. Mi fa mandare la richiesta a te. Eh, lo so, no, la richiesta della domanda io a Alianzara. Allora. No, non mi interessano i server, l'ho detto, ragazzi. Per me, chi segue RP, non voglio dirlo perché dopo sembra brutto, però... Ma adesso che va a fare il microfono mio timbra? Ma, madonna! Eh, più che altro dopo, non sento i rumori dopo di... Allora, me muro, facendo fattiglio. Comunque, ripeto, grazie per questa opportunità. Cercherò di non dare problemi, di non imitarvi mille volte. So che toglierà l'amicizia, poi. Non fa niente, tranquillo, tutto posto. Allora. Buon appetito. Grazie, grazie. Matteo, quando hai che fai un nuovo video di cucina? Di? Cugina, cucina. Ah, cucina, domani! Ah, let's go! Ah, muo vedo. Se riesco a trovare Rigo perché è scomparso. Non ci sono andato! Sto spalito. Dove ne andiamo? Alex, tranquillo. Ho cambiato un'utisunista. Allora, dove volete andare? Ah, io non so niente. Mappa nuova, che ne so. Siete voi. Sì, dovete cambiare. Più o meno. È la prima volta che giochi? Sì. Allora, ti aggiorno. Praticamente questa stagione si gioca molto spesso sulle automobili, rispetto alle altre stagioni che si giocavano a piedi, ecco, diciamo così. Gli automobili sono diventate l'oggetto principale per giocare e anche vincere, tra cui una nuova meccanica che sono appunto i pugni. I pugni sono molto forti, sia come mobility, quindi per scappare che per combattere. Ok, le macchine? Ho visto un trailer che c'aveva... Eh, le macchine, esatto. Ne hanno già depotenziate, guarda, perché erano veramente troppo forti. Allora, ci sono un sacco di modifiche, tra cui torretta o lanciagranate, le gomme antiproiettile o le gomme da fuoristrada. Scusate che sto uccidendo uno. Tranquillo, tranquillo. E sto mangiando. Perfetto. Dicevo, oltre le modifiche delle ruote e delle torrette, c'è la scappamucche, quello che avevano già aggiunto in passato. Io non mi ricordo più come si gioca. Va bene, va te, tranquillo. E' sul genere, ma anche noi. Ma io non gioca a mira. Tu sei da PC, giusto? Sì. Sono pronto a morire, allora. Perché? Perché da PC i giocatori, teoricamente, sono molto più forti. Io sono da console. Eh, io c'ho un problema. Che problema, dimmi. Eh, non c'ho... Che dè qua, nitrobomba? Che dè? Nitrobomba. Il nitrobomba, praticamente, se te lo fai, puoi sfondare i muri. Cioè, fai danno ai muri. E dura poco, ovviamente. Bello. Vai via che... Allora. Eh, però c'è un problema qua. Sì. Non trovo una R. La R? La R... La K47 l'hanno tolto. Hanno lasciato solo il fucile temprato di guerra. Scusa. Ah, temprato di guerra. Ma ci stanno persone qua? Eh, ci stanno sopra. Eh, non è qui. Eh, ma poi gli è. Sì, sì, sì. Stanno sopra. Stanno sopra, ma dove? Sì, che io sto cercando sto giocatore e non l'ho proprio trovato. Eh, sta qua sopra a me. Senti di passi qua sopra, ma... Porca troia. È mezz'ora che lo sento, ma mica... No, è quel build, cazzo. Chi ha messo build, porca troia? Non lo so. Anche perché io mi trovo meglio senza build. Idem. Eh, aspetta, audio? Anch'io. Audio? Matteo, posso chiederti una cosa? Eh, aspetta, un attimo, audio. Scusa. È sceso sotto. Sceso sotto e è andato sopra. Ok. Dimmi, 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 dimmi. Ah, è morto, ok. Ok, dimmi, dimmi, dimmi. Sicuro mi becco un mega no. Però, io provo a chiederti, tanto... No, le vestime non te le faccio. No, 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 non Vesemi, figurati. Però, mi sa che ti chiedo una cosa grave, tra virgolette, lo stesso. Se posso tenere la tua amicizia, non ti invito mai. Però, quando sei in live, magari... Quando sei in live, che ti vedo in live su TikTok, magari ti iscrivo prima su TikTok e poi magari giochiamo insieme. Allora. Solo questo. Che un piccolo problema. Stai parlando con Red Lion. Sì, sì, che un piccolo problema. Ma, mi sto perso la nocciolina. Grazie. No, no. Allora, per me lo avete tutto. Ok. Ok. Ok, la chat ti tocca. La Tanca, tu già 93 si è abbonato. Stai rubito del merda, quindi... Cioè, del merda, c'è uno solo che... Stai un po' solo i coglioni, però... Allora. Grazie mille da Tanca, come stai? Grazie mille da Sab. Un bacio enorme. E grazie mille pure la pupazzo, come stai? Grazie mille a pupazzo. Grazie. Allora, stavamo dicendo, no? Del fatto lì, che era. Che a te va, che a te va bene tutto, mi stavo dicendo. Ah, sì, però il problema è che io avevo 15.000 amici sulla lista. Cioè, avevo 15.000 persone. E purtroppo ho dovuto togliere tutti quanti. Tutti, tutti. Ah, caspita. Eh, perché erano troppi. Erano troppi. Caspita. Erano troppi e me laggava tutto quando entravo. Ci mettevo 10 minuti per entrare. E ho dovuto togliere tutti quanti. Ho dovuto togliere, quindi per quel motivo lì, non aggiungo più persone, diciamo, che non hanno l'abbonamento. Va bene, Matteo, allora ti chiedo una cosa ancora, forse è più difficile. Ma l'abbonamento costa, l'abbonamento costa 4 euro su tutti, cioè, cioè, alla fine. Oppure se c'è l'abbonamento prima è grave. Io non me lo faccio, eh, non mi interessa niente, non me lo faccio. Non c'è problema, Matteo. L'unica cosa ti chiedo, quando capita che a me arriva la notifica su TikTok che va in live. Ok. Mi farebbe piacere giocare insieme. Semplicemente quello. Tanto ti ricordi di me, perché su TikTok mi chiamo Red, sulla console mi chiamo Red. Come se costruisce qua? Non lo so. Stai costruendo bene, non stai costruendo male. Sei grande, Matteo. Ah, mi sono finito i materiali. Comunque ti ringrazio per la pazienza. Ok, ok. Ho bisogno di medikit? No, non hai presso vita. Una meraviglia sto a costruire. Ma io non mi ricordo che come si costruisce zero, zero. Ma non hai costruito male, eh. No, una madonna. Fatti questa, fatti la bottiglietta. Ti dà sia scudo che vita. Ma che è? La level up falsa? Che cazzo è? No, 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 no. È la collaborazione con Fallout. Con chi? Fallout. Il videogioco, Matteo. Oh, e dai, eh. Non entra neanche un colpo qua. Non lo conosci? No. Oi, 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 oi. Arrivo! Ci hanno fatto la serie TV da poco. Quella post apocalittica, però se ti racconto tutto sembra che stia facendo pubblicità. No, 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 no. Mi pare brutto, visto che sei live. No, 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 no. Se pagano che? No, scherzo, scherzo. Allora, di che è? La pubblicità? No, no, vai, vai, vai. Dimmi, dimmi. Pubblicità di che? No, ma mica sto facendo pubblicità, Matteo. No, si sta parlando tranquillamente. A me basta che non spoileri. Se non spoileri, viene tutto per me. No, no, non sto facendo spoiler. Ti sto solo dicendo che hanno fatto, qui su Forteck, hanno messo l'armatura atomica di Fallout e la nuca cola e successivamente durante la season metteranno anche un'arma che è lo spara al pione. Ok, meno uno vuoi? Chi è l'altro? Solo questo. Cazzo. Eh, c'è una mira del merda, smiroduti, scusa. Ma c'è altra gente. No, Matteo, hai fatto il kill e hai fatto. Ah, no, no. C'è una mira che fa schifo. Allora. Dove sei? Oh, 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 eccolo, eccolo, eccolo. Tieni, Matteo, prova questi. Aspetta, dopo magari. È il momento sbagliato per parlarti. Ok, prova questi. Ok, prova questi. Allora, con... Io non so i tuoi tasti. Eh, nitro bomba. Corre? Sì, corrisponde alle cose. Questi sono i pugni di cui ti parlavo prima. Sì, vai. Con questo puoi sia scappare che picchiare la gente. Tieni. Eh, sta merda. Ma sono buoni? Sì, sono molto buoni. Anche se mi hanno nel pato, hanno abbassato il danno, ecco. Come vedi, puoi scappare e poi se metti sinaria, tiri un pugno, puoi fare un sacco di danni ai giocatori. Però devi tirare il pugno verso il terreno, ovviamente, dove c'è il giocatore. Ma questo lo saprai. Eh, sì, sì. Però il pugno, come si tira? Allora, con il tasto destro... Eh, prova un po', perché io, purtroppo, non giocando da PC, non so dirti i tasti. Allora, sì, 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 in modo lo dico io. Allora, pugni in aria, montante... Ok, pugno... Madre... No, comunque, per tornare al discorso di prima e chiuderlo subito, non ti avrei mai chiesto una bestemmia, perché io ti seguo da tanti anni, ma a me, onestamente, hanno sempre dato fastidio le bestemmie. Ok, ok, bravo, mi piace. Non sono religioso, ma non mi sembra giusto farlo, perché sarei incoerente con me stesso. Sì, 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 ma nemmeno a me piacciono, eh, da sentire. Solo che ogni tanto... Ti ho seguito, ogni tanto sul cielo, dai. Ho seguito il post in cui hai detto che hai smesso. Eh, sono contento. Cioè, no, no, smesso, smesso, cioè, nel senso, ho ancora un po', un baglio, me ne scappano. Però sto a cercare di smesso. Ho gente davanti a me, ma te. Però sono contento per te, onestamente. Ma sto a cercare di smesso, ma... Aiuto subito, perché ho un team da me, ragazzi. Eh, mi hanno distrutto. Dov'è? Uno è senza shield. Aiuto, sono morto, sicuro. No, due da me. Rotto uno. L'altro quasi a terra. Qui da me, dietro l'albero. Ok, vai, arriva, arriva. Avrei bisogno di qualcuno che mi curi, perché sto morendo. Se riuscite, eh. Uno che può procurarmi, che sono distratti, sono mille team. Matteo, prova a curarmi, se no, voglio. Sono sotto di te, Matteo. Sotto di te. Vincino te. No, cazzo. Addio. Peccato. No, è, va bene, va bene, non c'è problema. Sanno costruire questi... Mamma mia, Matteo, mamma mia. Madonna, va qui. Vado, R sta. GG. Eh, ragazzi, io purtroppo... Che bestia. Che bestia. Bravi, ragazzi, bravi. E' da bocchino un gioco forte, Natale. Però avete i resti vicino, eh. Non è un problema. Chi è questo? Questo è morto, GG. Ok, via. Ok, la R questa me la bevo io. Ah, ragazzi, c'è un medaglione vicino a voi. Ma vicino dove? Eh, te lo pingo, Matteo. Qui. Te lo pingate. Ah, stava sotto la macchina, ok. Che è questo? È buono? Se leggi le specifiche te lo dice. Mitico? Questo che è? È buono. È buono, buono, buono. Questo mi piace. Ok. Qua c'è tutto, c'è un medaglione, ok. Mazza come corre, ma che è? No, vabbè. È diventato Fortnite, c'è... C'è un mix di... Sì, questa stagione è cambiato, è cambiato tantissimo. È bella. Molti la criticano, ma secondo me è bella. Allora, le armi che c'hanno un rinculo pazzesco... Eh, chi è? C'è uno. C'è uno. Scatranoia, c'era uno. Vabbè, è morto, è morto. C'era uno, infatti. Distruttivo. Scusate se ho fatto l'aspirapolvere, se avete bisogno di qualcosa ve lo do, eh. Ah. Tranquilo. Perfetto. Allora, ragazzi, avrei bisogno di munizioni di pompa e assalto, perché ne ho pochissime. Quindi ti do tutto quello che vuoi, eh. Eh, io ne ho 140 di assalto e 64 di pompa. Ma ha sbaglio, ho visto una persona qua. Ma a me mi sembra di c'è qua. Non lo so perché non sto più guardando la live, perdonami. No, 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 c'era uno, c'era uno, c'era uno, c'era uno. Cattranoia, come se muove veloci sui medaglioni, ma che... No, eh, cioè... Ma... Ma non riesci nemmeno a prenderlo, come corre veloce, questo? Eh! Spacca pure i muri! Sì, sì, è fortissimo. Hanno fatto una cosa fighissima durante sta stagione. Sono già contento del fatto che abbiano messo a posto i pugni e le macchine, perché erano rotte nel senso negativo, ovviamente. Erano troppo forti e troppo tossiche. Per quanto mi riguarda, però magari... No, è vero. Però è molto divertente, eh. Ah, eh. Stagione non c'è lo testo divertendo un po'. Ah, quello... sicuramente. Quello sicuramente. Allora, io andiamo. No. E' una... Madonna qua. Guarda là. Guarda là. Siamo sulla... La cosa. Spettacolo di andare qui sopra con la macchina. Madonna, ma che è con la macchina? Ma... Ma vola? La macchina volante? No, non ci credo. Come è la macchina volante? Non ci credo, dai. Ci sono ancora i video su Harry Potter? No, 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 ragazzi, no. Mamma mia, vi lamentate sempre, porca troia. Ma chi? Scusami, Devil Luna, non ho capito. Non ho capito. Non ho capito, perché io non sto a legge... E però è morto e Matteo tutto cinneggia la chat. Che boss, Matteo, mamma mia. Tutto tranquillo. Ciao, Owitz e Z. Ciao, bello. Matteo, posso giocare? Allora, un named. Sto giocando con le sub su Twitch. Mù vediamo se entrano qualche altra sub. Vediamo, però... Sì, cioè, se c'è la sub, sì. Ma io prendo danno se vado di sotto? Eh, sì, vabbè. Sì, sì, vabbè. No, se hai i puni e i musi, no. Però... Se ti butti, ovviamente sì. Ok, no, con il medaglione, dicevo. Con il medaglione. Matteo, una cosa. Questo qui che ti modifica le armi, sai che cos'è? Sì. Eh, sì, 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 come no. Sì, 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 lo so, lo so. Ok, ok, perfetto. Sto porto qui c'è. Un cecchino mi servirebbe. Che è qua, dardo? Ah, no, no. C'è chi non esistono più se non... L'occhio di Falco di MN cacciatrice oppure il dardo detonante. Oh, l'hanno levati, veramente l'hanno levati? Oh, era un ragazzo. Le mie preghiere hanno funzionato. Va bene. Buono, buono. Un dito perché a me dispiace il fatto che siano andati via i cecchini, però ci sta. C'è gente della macchina. Quanti, quanti caspita di così ci sono da voi? Troppi medaglioni, Matteo. Dio! Ma tu lo fuggi nel chill. Non lo faccio più. Bisogno d'aiuto, c'è una macchina del boss, ragazzi, stiamo attenti. Sì, è veramente al 50 di vita, troppo. 50 di vita, socio. Aveva 1200 vita. Disfruttivo. Ah, ok, no, non prendo danno. Stavo di averlo distrutto. Matteo e Joker, venite da me. Sì, sì, arrivo. Occhio, bacchia! Quella è prima, quella è prima. Quasi distrutta la macchina, eh. C'ha tipo 500 di vita. Se ci riuniamo uso la pompetta. Scusate, volevo dire loro. Il coso per curare, intendo. Sì, io vado sopra a buscio perché... Perché, Matteo, volevo curarti. Ah, ok, 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 no, 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 ok, vai. Occhio che potrebbero stare sopra, potrebbero stare sopra, eh. Da qualsiasi base. Lo so, lo so. Scusate, ho sbagliato a costruire. Scusate, ho sbagliato a costruire. Non è più mille, 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 mille. No, l'hanno cambiato. Da una vita, Matteo. È da un po'. È un po' triste questa cosa che l'abbiano cambiato, ma va bene. Ti ci abitui dopo un po', eh. Vabbè, tutto cambia. Due pozioni scudo, comunque. Finché le cose cambiano in meglio. Minchia, corro con me. Ok, ok, sta arrivando un medaglione. Arriva il medaglione. Che penso che siano gli ultimi. Sì, sono gli ultimi, me sa, eh. Sono gli ultimi. Ci sono tre scudoni da me, se qualcuno li vuole prendere. No, 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 no. Che cazzo sono combinato? Non mi pingo. Ma sono fuori safe, eh. Occhio. Ma non ho visto? Guarda la kit, basta. Sì, signor Matteo. Stanno a destra, stanno all'altro. Oh cazzo, chi è? Dalla casa, dalla casa, Matteo. Ma non l'avevo visto. Visto, visto. Eh, io vado via perché. Ma chi ne si vede? Qui in casa c'è un team. Mi hanno distrutto perché hanno la balestra. Cazzo, 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 cazzo. Vai, entriamo in causa, vai. Da Matteo, ragazzi. Da Matteo. Eh, tutti qua stanno, sì. Li vedo, li sento. Li percepisco. Dai, dai, aiutatemi. Uno morto. No, di cazzo sto sparando. Porca puttana, non ce ne capisco niente. Io zero proprio. Oltre due. Mamma mia. Ma io non ce ne sto capendo niente. Ma te, ti ho incoglionito, ti chiedo scusa. Però con i pugni ho fatto il devasto. Sì, sì, buono buono. No, li devo usare da vicino. Da vicino li devo usare. Allora. Sono fortissimi, ti ho detto inizio partita. Sì, sì, infatti, ok. Qualcuno ha shield. Qua sotto stavano, ok. No, bravo, bravo. Ne avevo ottenuto uno, ma non è morto, ragazzi. Quindi mi sa che c'è qualcuno in casa. Eh, ma io non lo so. Allora, qua. Che sta curando. Oh, 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 che è? Ti tocca? No, mi hanno mandato, mi stavano chiamando. Ah, ok, scusa, perché di solito erano notificati di TikTok quando me bannano la live. Sì, sì, ok. Quindi. Pensavo che mi avevi sobrannato. Ragazzi, c'è un medaglione qui in zona e probabilmente hanno curato quello che ho atterrato. È l'ultimo. Ah, sta qua, sta qua da me, qua da me. Ragazzi, siamo due contro uno, eh. Lo vedo, lo vedo, da me, da me. Eccolo. Uno è morto. Bravi. L'ultimo, l'ultimo è da me. Se venite, ce lo facciamo, ragazzi. Ok, vabbè, un attimo al volo. Ma, i shield non ci stanno più lo shield dei 50 quando ti spara, no? Sì, sì. Perché non lo vedo? Aspetta. Lo shield supplementare, sì, in zero build esiste. Qui no. Ah, qua no? Ma io. Qua no, perché è in modalità build. Comunque c'è uno da me, ragazzi. Arrivo. Potete aiutarmi? Non so in che punto, ma l'ho sentito, ho visto i passi anche. Io c'ho il sensore per i passi, è proprio una meccanica del gioco. E anche eccolo. No! Eh, stu quanto non lo uso più io. Io il guanto non lo uso più, sta qua, sta qua. Bravi. Andiamo tinto, ti credo, Matteo. Stai, ragazzi, mi stavo donando. Grande, Matteo. Oh, 10kilo sono fatto, 10kilo poi. Buono, buono, Matteo. Buone, 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 buone. Dai, grazie mille, dai. Bravo, Matteo, buono, buono. Grazie, grazie. No, Matteo sei un boss, sei. Ma che boss, ma che boss, ma faccio cagare, faccio. Vabbè, ciao ragazzi, ciao alla prossima. Ciao, 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 ciao. Grazie mille. Mo' mi salvo. Sì, sì, va bene, va bene, come ti pare? Ciao, ciao. Ciao, Matteo. Allora. Dicevamo, vai, chi è che vuole giocare con me? Ultimo game, poi andiamo a giocare a Formula 1, perché la Formula 1, ragazzi, è un must, cioè, devo per forza farlo, assolutamente. Assolutamente, devo farlo. Madonna santa. Secondo voi devo andare da un chirurgo estetico a farmi togliere queste borse sotto l'occhio? Queste? Porca puttana. Perché da quando ho fatto l'intervento, il traviando con i capelli, che mi era venuta la faccia tutta gonfia, vi ricordate? Mi si è proprio... qua mi si è formata qua sotto, infatti, prima che ho fatto, prima di fare il trabianto ero... andava bene. Poi dopo il trabianto... Ma sì, le creme ce le metto, ma niente da fare. Non funziona. Vabbè, comunque. Allora, vediamo un po'. Namo! Vieni a che vuole giocare! Grazie, Iam! Grazie mille! Iam Viking, come stai? Mi piaceva enorme, grazie mille, grazie. Oppure una sorpresina per tutti voi, ragazzi. Non so se... Va bene, Red, mi ricorderò di te, grande. Non so se vi ricordate... Insomma, l'altro giorno che ho giocato al gioco della Supercell. Questo qua, Squad Buster. Lo conoscete tutti, Squad Buster? Io spero e credo di sì. Sono arrivato al livello 54. È tanto? Livello 54. Livello 54. Livello 54. Eh, ci ho giocato per bene ieri. Ci ho giocato un bel po'. Ci ho giocato ieri. Non so se lo conoscete come gioco, ma il gioco nuovo della Supercell. Boh, a me piace il gioco, a me piace. Però, ovviamente, quando trovo un gioco che a me piace a me, significa che alla giocata non piace. Eh, purtroppo è così che funziona. Sti giochi... Io ho un debole per giochi... Per giochi tipo questi, quindi... Ho proprio un debole. Però, appunto, il problema è che è difficile. Allora, vediamo. Chi è che vuole giocare con me? Mandatemi la richiesta per partecipare e... Ma ci stava tipo un pulsante con scritto richieste, credo. No. Mandatemi la richiesta per entrare dentro il gruppo. Allora, c'è Tessari che ancora non ce l'ho tra gli amici. Lo aggiungo subito, che è un sub. Allora, SSG... L4... Da bug. Da... Da bag. Sd... No, la bag. Da bag, ok. Allora, se non c'è nessuno che vuole giocare con me dei sub su Twitch, allora faccio una cosa. Invito uno da TikTok e uno da Twitch. Allora, c'è qualcuno su TikTok che vuole giocare con me? Se c'è qualcuno su TikTok che vuole giocare con me su Fortnite, ragazzi, mi faccio sapere e... Lo invito... Gli mando... Ora che è fresco potresti streamarlo. Sì, sì, infatti penso di streamarlo più tardi, ragazzi. Più tardi. SSG... Sono da cellulare, però. Aia! Eh, se sei da cellulare come fai a giocare da cellulare? Ma da cellulare Fortnite com'è? La merda! Come fai a giocare da cellulare? Così bene. Grazie, jolly! 28 mesi! Un bacio enorme, grazie mille! Sottolineatura, si è abbonato per 28 mesi. Ah, si può? Ah, dicono che è ingiocabile. Ingiocabile. Ma in realtà ti dirò, ho visto su internet, su Amazon, avevo visto l'altro giorno su Amazon, ma giusto perché stavo lì, tanto per... C'erano i pulsanti... Questa roba qui, questi qui. Che ti fa tipo da controller, no? Da controller. Che tu c'hai il cellulare sulle mani, c'hai il cellulare sulle mani, tu premi sopra, premi... E c'hai queste cose qua. L'avevo vista l'altro giorno su Amazon, mentre così... Ma è apparse... Non so come sono. Ma dovrebbe essere tipo... Cioè, dovrebbe andare bene, credo. C'ha una specie di ventosa che si attacca dietro. E giochi così, vedi? Boh. Non lo so. Allora, vediamo. No, non c'è nessuno che vuole... Gruppi ci assieme... Ok, no. Mi devi mandare tu la richiesta. Mandami tu la richiesta per partecipare, non l'invito. Allora, vediamo. Richiesta inizia al gruppo, perfetto. Allora. Ciao, come stai? È forte l'audio? No, no, no. Posto, posto. Ok, ok. Allora. Tutto bene, tutto bene. Lada bag. Il testare si chiami su Twitter. Sì, sì, sì. Allora, vediamo. C'è l'eco, c'è. Esatto, se sento un po' d'eco, ma dopo in caso lo... Eh, se vuoi mutarmi, mutami. Dopo, 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 ti muto. Allora, non c'è nessuno che vuole giocare con me. Eh, di gente in chat. Quindi, vediamo. Uno da TikTok. Su TikTok, il primo che mi viene fuori è... TTV Manuita. TTV... TTV... Ah, richiesto inizio, ok. TTV Manuita. TTV Manuita, ok. Dopo ti rimuovo dagli amici, eh. TTV. Ok, mandami la richiesta per partecipare. No! Porca troia. Ma che cazzo ho combinato? Mi sono sbagliato, scusatemi. Rimandatemi la richiesta, scusatemi. Allora, quello di prima è sasso acuto. Eh? Non lo so. Vabbè. Ehm... Mandami la richiesta per partecipare al gruppo. Eccolo. Uno. Due. E tre. Buonasera, Mattè. Ciao, ciao ragazzi, come state? Bene, bene. Tutto a posto? Ho messo zero build, eh? Ok. Zero build, no. Sì. Secondo me è meglio fare trio, però se vuoi fare zero build, vabbè. Scusate, ma... Ok, sasso, non è una cosa, io. Andiamo, mettete pronto, andiamo. No, 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 zero build, zero build, fidate. Tanto è un game solo perché dopo vado a giocare a Formula 1, quindi... Ma perché io so quello di prima, esco? Ah, quello di prima? Sì, 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 quello di prima, sì, deve uscire per forza. Ok. Eh, scusami. Allora. Quindi uno da TikTok l'ho messo. Mettiamo pure uno da Twitch. C'è qualcuno su Twitch che vuole giocare? Qualcuno su Twitch che vuole giocare? Ok, ditemi i nomi, allora. Il vostro nome. Dopo vi rimuovo dalla lista amici, però, eh. Caos, trattino, passo. Questa qua che prima... Questo che prima Borella... O Borello, non lo so. Ho provato a mannagli la richiesta, ma non l'ho trovato. Eccolo, Caos, tenembra, ecco. Perfetto. Siamo, ci siamo. Eccolo. Ma cagano, aveva fatto una paura. Mi ho fatto da là sotto. Che cazzo è? Ma che ne so? Oh! 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 È una bella... È una sborrata epica fatta, te lo dico io. Allora. Vediamo un po'. Ci sta sta ragazzo, ragazzo, non so... Eccolo. In vita nel gruppo. Vediamo se accetta. Ciao Matteo Beat, tutto bene? Ti invece come stai? Allora, Caos, tenembra... Ok, andiamo. Via via. Salve. Salve. Ciao. Come va? Bene, bene. Tu? Tutto bene? Io tutto a posto, grazie. Dai, dai, che dobbiamo vincere. Siamo con Paesani. Con Paesani? Di dove sei? È macerata. Ah, macerata, macerata è qua vicino, eh. Ma... Quanti anni hai? 24. Conosco a Lara. Andavamo a scuola insieme. Ah sì, con Lara! Ah sì. Ma che cazzo dici? Veramente conosci Lara? Sì, a cingoli. A cingoli andavo a scuola. Ma lei è degli esi, mi pare. Eh, abbiamo fatto l'alberghiero. Sì. Ah. Ha fatto per pochi anni. Lei conosci. Ah, tu pensa. Non lo sapevo, conosci pure Lara. Conoce. Eh, Lara è troppo simpatica, veramente. Simpaticissima. È f***, è f***. Che c'è. Tu pensa, non lo sapevo. Quanto è piccolo il mondo. Poi il manager di un'azienda famosa... Che ho rincontrato pure al Games Week Anche lui è un mio compagno di scuola. Quindi proprio... Ma dopo l'hai fatto l'alberghiero, no? Sì, sì, sì. Ok, ok. A voglia. Magerata, Magerata. Eh, purtroppo non conosco nessuno di Magerata. Zero. Precisamente San Severino, ma tanto non abito più lì ormai. Ah. Io Magerata andavo tipo... C'era un locale che faceva tipo disco per... Per quelli che stavano all'università. Come si chiamava lì, al centro. Eh, eh. C'è un tanto. Il tartaruga, che lo so. Tartaruga, brava. Là. Eccolo. Andavo sempre là a ballare con l'amici. Il tartaruga. Cioè, ballare, tra virgolette. Perché loro ballavano. Io li guardavo. Ma chi ballava? Ma io ho pingato a casa, eh. Ho messo qua. Sì, sì, pure io. Ma io non so niente qua. Ma voi siete forti, sì? Perché me dovete cari a voi, eh? Me dovete cari a voi. Io sono bravo a pensare. Io lo gioco le build, però me lo trovo anche il senso. Non è quello giusto. Dai, dai, va bene. Questo è lo spirito giusto. Dai, innamo. Allora, io innamo. Attenzione, attenzione qua. Oh, 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 oh. Che è? Beh, è già spara, eh. Eh, io perché c'è stato tutto. Ok. Eccola. Perfetto. Ma io qua, qua me l'ha caduto a me. Ma poi che cazzo è sta? C'è stata una canzone qua che non ho la canzone. Senta la musica? Sì, sì. Oh, oh. Oh, c'ho armi. Ma non è che non voglio vestirmi a più Visortulus. Vestirmi lo stesso, ma sono brutte, capito? C'è qualcuno che mi sta sparando. Oh, oh, oh. Madonna, quando bestemmio. Ma bestemmio lo stesso, io bestemmio, però. Oh, cazzo, cazzo. Mannaggia. Ma che è passato? Ma che è passato? Oh, oh, oh. No! Dai, in botte del merda che c'è lo spazio. E' là, come si chiama? Quello che sparava a spamma. Vaffanculo. Arriviamo, arriviamo. Io non ho scuso, non c'è niente. Ma sì, che donna, ragazzi. Ma vi pare? Stanno a chiedere se sei uomo. No, un transito. Ma veramente? Ma no, ma te, pure tu, però, eh. Ma veramente? Ma no. No, no, perché se no... Ma tu guarda. Ma è una donna, ragazzi. È donna, donna, non è trans. Dai. Ma te sei il più bello, sta diventando sempre più bello. Grazie, jolly. Sì, ma non è vero. Sembra più bello, no, no, no. Qui c'è la corona, la volevo. È vero, ma te. Sì, sì? Non la voglio. No, veramente? Mi si è fatto un bello? Eh, col trappianto, piano piano. Cioè, ho visto le foto prima, di come era il prima e il dopo, insomma. Prima l'attaccatura mi iniziava praticamente da qua. Da qua mi iniziava. Eh sì. Mi hanno messo così dei capelli. Ah no, a me, a me mi hanno ribattato. Sì, sì, sì. Solo che su sta parte della mappa me la caduta, non lo so, anche voi? Eh sì, è normale. Ci sono un po' troppo. Tranquilla, tranquilla, proprio? Giochi da PC? No, la console. Dai, la console, esatto. La puttana, non so perché. Poi ci sta un po' un po', se lo vuoi. No, è pompa gelo, ce l'ho appena trovato. Aspetta, vieni da me, vieni da me. Questo è tuo. Oh, lo scudo, lo scudo. Ah, va bene, non fa niente. Ah, lo vuoi pure tu? Aspetta, usano la sborra, aspetta, vieni qua. La, lo spumante è qua, vieni, 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 vieni qua. Meglio dello spumante, vai. Mamma mia. Ma che fine ha fatto il pavolo? Quella dolcina è la tua, eh. La mia? No, no. Sì. Ah, vuoi capendo io? Vabbè, è uguale. Eh sì, era la tua. Sì, però prima ci andiamo via da qua che meglio è, guarda. Ok. Giro la testa. Io me ne vado via, ragazzi, scusate, ma non ce la faccio, non resisto. Vai, vai. No, perché non reggo, c'è troppo casino, mi giro la testa, non lo so, giuro. Sì, a me c'è la nostra fissa, qua. Trapianto, perso peso, messo masca... No, la massa muscolare è dopo. Ma non penso di voler diventare... Cioè, è molto muscolosa. Cioè, prima devo asciugarmi, poi... Poi vedo come sto. Guarda, ragazzi, se volete. Spendiamo la macchina. C'è la macchina, ok. Ma... Che cazzo... Come serve? Una R... Questo apposto. Però senza R... Ma io c'ho i guanti, se li volete, ho tanto... Oh, cazzo è! È bastante... Ehm... Pomodoro Zene, quanto ho nerdato? Dalle 2 alle 6 e mezza del mattino. Eh, è tanto? Comunque io, nell'altro gioco, sono a livello 5. Non so tu come fai a essere 54. Ho nerdato tanto, ho nerdato. Ma tanto, tanto, tanto. Eh, beh. Più dopo ho giocato oggi, in un'altra oretta. Quindi, in totale, se... 10 ore di gioco, c'ho. 10 ore. No, io ne avrò fatte due. Nemmeno. Ma dovrei fare una bella maratona per... Potenziale della macchina. Qua c'è gente. Sparano. Cazzo, questi mi sembrano più... Non mi sembrano più lì, eh. E dai, porca... No, 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 no. C'è, tranquillo, tranquillo. Madre. E non ce l'avevo più colpi in canna. C'è. Farete. Perché parlo marchigiano. Non mi manca un po' di marchigiano. Questo è qua in Sardegna, adesso. Ah. In Sardegna. Che stai fai in Sardegna? Altre gente c'è? Non penso. Sentivo. Sentivo uno che camminava, però, eh. Eh, da due, da due. Oh, va. Morti? Sì, sì. In teoria tutti. Con oribuscio. Avete colpi... Colpi assalto? Sì, vieni qua. Colpi assalto e colpi bomba. Colpi bomba? C'è altro gente. Quale benzinaio. Ah, sì? Siamo. Non c'è il mirino, ok? Perfetto. Na, barca troia, barca troia. Mannaggia a me quando non giavo i corpi caricati. Non giavo i corpi in canna, non c'avevo. Ma che cazzo me stai a parlo. Ma che è sta roba? Ma che è sta roba? Dio, sandissimo. Vabbè, posso anche morire. Sono nella loro macchia. Oh, ce n'è uno qui! Occhio Matteo, ce n'è uno sopra, ce n'è sopra. Sopra? Sta sopra. Sì, eccolo. Destra. A terra. Bastardi. Ok, caos è morta però. Vado a arrestare a quello se riesco a arrestarlo, che tipo umano. Grazie, Matteo. Prego, prego, prego. Ma che è sto casino? Mamma mia, c'era quello che faceva robe assurde lì. Madre. No, a me serve un caffè comunque. Assolutamente. Comunque su TikTok si vede meglio che su Twitch. Perché? Assurdo. Forse, forse schermo più piccolo, risoluzione ridotta, lagga di meno. No, no, te lo dico io. 30 fps. Lo riconosco quanto è 30 fps. No, invece è 60. Orca troia! Chi è? Dio santo! Chi è? Stronzo, bastardo! Figlio di puttana, stronzo! Chi cazzo è che cosa ammazzarmi? Dove? No, non lo vedo. Dove sta? È lì sopra, Matteo. Vai, io ti rubo la macchina. Non lo so. Vabbè. Io gli rubo la macchina e vaffanculo. È sopra e sopra la montagna, sopra la montagna. 24, 48. Lo so, me devo curare però io. Non c'ho cura. Eh, vado io, vado io, vado io. Non c'ho cura e moro tra poco. Ah, caos qua, gli prendo la... Perché? Per essere c'è un distributore qua dentro, entra per le guida. Fatto, fatto. Sì, sì, te resto subito qua. Ah, grazie. Come ti chiami? Gauss? Sara. Sara, Sara, ah! Come la ragazza mia? Ah. Sara, Sara. Sara. Da te, fatti questo. Sì. Grazie. Ho anche due di questo. Sì. Ok. Ok. Aumenta lo scudo però solo. Cazzo. Vabbè. Meglio di niente. Mi serve... No, dovrebbe dare anche un po' di vita. Eh, ma poco niente. Non è tutta, però... Un po' niente. Va dentro c'è la macchetta, il cazzo. Sì, recupero un po' di scudo e un po' di vita. Andiamo con questa? Che c'ha il davanti, non so che c'ha qua. Eh, però c'ha due posti. Ah, due posti. Ok, vabbè, andiamo. Eh, due posti. Mamma mia, spacca tutto, spacca. Sì, che è modificata. Ma che merda. La missa? No, non ve la presenterò mai, ragazzi. Ma qua c'è un'altra macchina, caos. Dai, arrivo. Grazie. Guida tu, eh? Madonna, ma che è? Questo è un proiettivo. Ho sbagliato. Ma pensavo c'era la roba di qua. Spacca tutto, spacca. Guarda, vuoi guidare tu? No, 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 no. Non mi parla di più. Io sparo, tu, Guida. Mi prendo tutti i muri. La spacca tutto, spacca sta roba. Sì. No, la missa, la missa non ve la posso presentare, ragazzi. Ah, questa è Matteo, praticamente, se tu le lanci, quello vicino a cui le lanci, balla. Sì, sì, lo so, automaticamente. Non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so, non so. Ok, allora la prendo io. La vuoi? No, no, grazie. Ok. No, 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 ragazzi, non voglio. A parte che non vuole lei, però non voglio nemmeno io. Una volta mi sono fatto vedere il live sua. È quella che c'avevi prima, ragazzo, sempre o l'hai cambiata? No, vabbè, prima è stato un anno single. Mi ricordo una bionda, mi ricordo. No, 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 quella no. Ok, ma dove stanno? Allora, vedete i medaglioni tipo qua. Vogliamo andare là? Dove? Ok. Là, che stanno a sparare. Ci stanno due medaglioni. Andiamo, andiamo. Io prendo la macchina questa. Vai, 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 vai. Monta, monta, ok. Ci stanno sparando qua davanti. Ah, c'hanno il bot. Sì, 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 infatti, io ho lì, mi ricogliatrice. Mi metto qua. Mi metto qua. Ok, mi metto qua. Qua, qua, qua. Qua, qua. Qua, qua. Qua, questa è proprio la macchina del boss. Che odio, ste ma, ste cazzo, che a colpo singolo, è. Ma sono morto. Oh, chi è che t'ha ammazzato? Oddio. Da dove? Da dietro? Da, no, da dove? Da dietro, da dietro. Da dietro, sì, da dietro. Ah, eccola. Andata. Anche da qua giù. Ecco, tutti. Va tanti dietro, dietro. È l'ultimo, mi so. Bravissimo. Ok, anche se è buono, buono, buono. Bello, il medaglione. Eh, io purtroppo, oh, cazzo, sì, l'ultimo, il cazzo, ci resta uno là. No, 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 sono quasi morto, sono quasi morto, dieci, otto, sei riuscito a ressarmi, quattro. Che culo, che culo. Medaglione, qui, chi lo vuole? Ma recupero la vita? E mori, testa, di cazzo. Recuperi la vita, quel medaglione? Ehm, non credo. Allora, pronto. È solo quello del nitro infinito, credo, questo. Posso il medikit? Allora, io c'ho due scildini, se volete. No, non è a posto, mi serve essere medikit. Sì, è? Oddio, è una macchina da me. Dio Cristo, è una macchina da me. Ah, qua c'è l'altro medaglione. È una macchina da me, porca puttana, c'è stava. Occhio, eh. La scheda qua, che fai, non la pigli? Mi sentirebbe un medikit, una penna, qualcosa. La vada a cercare sotto. Eh, ti, qua, io c'ho medikit. Dove sei? Chi sei? Eh, a me sempre il medikit. Ce n'è un altro, ce n'è un altro. Ah, ecco. Oh, scuso. Cazzo, i guandoni mitici fanno più danno? Eh, sì. Eh, sì, sono belli forti i guandoni mitici. Ok. Ci sento? Non lo so. La macchina se le voglio. Purca droga, che bella macchina. Ma che è? Ma che sta a dire certe botte, tira. Vai, vai. Se volete io c'ho quattro posti. Mi auguro io. Ah, ok. Ok, la uso io, la droga. Aspetta, salvo io con te, dai, dai, che spacciamo due e due. No, non ci stiamo in quattro. Non ci stiamo in quattro. Non ci stiamo in quattro. Ma ci stiamo in quattro qua. Mamma mia. Vai. Buonasera. No. Oh, dio. Che cazzo è? Preciso. Mamma mia. E' un'altra. E' un'altra. E' un stomaco. Aspetta, uno deve rimanere sempre in macchina, se no già la fregano, eh. Però la guardo. Fa terra uno. Sta a posto. C'è un medikit qua, se volete. Uh, e poi l'altro. Oh, anzi bia. Ci sta un altro? Ci stanno altri là. Ma la macchina è esplosa. Ah no, eccola qua. Madonna, che cazzo di danni che fa, oh. Quello sta spaccaduto. no 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 Ma te, siamo qua, siamo qua Io scendo Ma puoi scendere come gli pare? Ah bello Più e porta a casa Siamo 4 contro 3 4 contro 3, sì Allora Perfetto, io Allora Ci abbiamo tutto, abbiamo quasi vinto la partita Qua, bella precisa Aspetta che prendo pure questo Che roba è qua, non lo so Tutti il tocco, però, va a scatti Eh, un problema Stasera viene a cena con noi Ma dove che venga a cena con voi Ma quando? Ma te, siamo a 33 kill Questa qua da YouTube 33, dici, che da YouTube? Eh, vediamo Sì, sì, siamo a 33 Con questi qua arriviamo a 36 Volete quella oro da lui? Lo battiamo? Lo facciamo, vai Ok, chi è? Ah, c'è il medaglione È questo che Che quando lo batti Le dà un'arma d'oro Di pompa d'oro, dà Sì, ma è sto bastardo qua Dove possiamo passare? Eh, dai, eh Ok Ah, questo è buono Ah, voglio che questo è buono questo? Questo mi piace, questa cosa Il medaglione è chi l'ha dato? Ah, ok, ok, ok Non lo so Ok, mi ricordavo infatti che lo dava Vabbè, allora Ci stanno Team Non stessa dove Vabbè Siamo contro un team da tre Eh, uno è quasi fuori safe Mi sa Tutto 4.3 Ok, ho ricaricato le armi Ora vado a fuciare Andiamo in macchina Andiamo a piedi Vabbè No, meglio in macchina Questi tipo loro pure sono in macchina tanto, eh Oh, va Se trovi quello per curarla Curala Non mi pare che c'è qua Vuoi salire, Mattè? Mattè, vuoi salire? No, 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 no Tranquillo, io vado a piedi Preferisco Eccolo qua, eccolo qua Eccoli, eccoli White 1 A terra Juanito un altro A terra un altro Manca l'ultimo, mi so Sì, sì, sta là dietro Sta là, l'ho visto Eccolo qua Eccolo qua E' white Ah, non so chi l'ha ammazzato Però, almeno ce l'abbiamo fatta Vittoria reale, dai Due vittorie reale L'ho dato l'ombrello, Mattè, a te prima L'ombrello? Quale ombrello? Non lo so Con la prima vittoria reale del gioco ti regala Ah, non lo so, non lo so No, 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 purtroppo no 37 kill Allora Sì, 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 un sacco di kill Infatti, un sacco, un sacco, un sacco Allora, comunque Devo togliere dall'amici Come avevo già detto Ti tolgo dagli amici E niente, ci vediamo alla prossima È stato un piacere Ciao, 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 ciao Ciao, 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 ragazzi Allora, aspetta un attimo Non uscite Allora, rimuoviamo Ma io posso uscire Ci sento Ciao, 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 ciao Ciao, ciao Ok, e quell'altra qua Ok Perfetto Grazie, ciao, alla prossima Sara Bella, ciao Ciao, 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 ciao Ciao, ciao Allora Minchia, oh Cazzo, che partita Delettato dagli amici Ma che delettato dagli amici Ma no, dai Giocate ancora? Ciao, Trilli Come stai? Grande Ragazzi Allora, ci spostiamo di là E andiamo a fare Formula 1 Allora, devo un attimo scrivere una cosa Al mio nutrizionista Importante Allora, ti stai sgonfiando Se questo, secondo te, è un effetto controindicato E almeno, capito? Se ti stai calmando Stai calmando Stai prendendo le cose più con calma Almeno E' eccitato E' tutto E' tutto guadagnato Ma che guadagnato, porco Io devo lavorare, porca, madonna Non è che posso Stare qua Aspetta un attimo Lo chiamo Ciao, dottore Mi scusi Ah, ti disturbo? Ah, si? Lì, proprio stai? Ah Ok, senti Ti dicevo Io capisco Che magari Te Insomma Vabbè Te sei un medico Sei un dottore Però Il problema è un altro Che io purtroppo Non posso Non posso non usare la caffeina Io Cioè io mi sento veramente Non dico che mi sento Un mo No, la taurina La taurina non mi interessa A me il caffè già mi basta Eh Io sto ancora in live No, no, no Sì Io sto ancora in live Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, grazie mille, Cronus Ufficial! Adesso l'ho vista, l'ho vista, l'ho vista, l'erraide, adesso l'ho vista, adesso, grazie, grazie mille, bellissimo, grazie. Grazie mille, Rosso, come fa il trabianto? Alla grande, alla grande proprio, una madonna, va proprio benissimo. Grazie mille anche a Fleck, grazie mille, sei mesi di Resab, grazie mille, un bacione, un bacione enorme, grazie mille, bellissimo, grazie. Grazie mille anche al Jolly, 34, 28 mesi di Resab, grazie mille anche ad Alkel, 37 mesi. Ragazzi, mi vado a fare un po' di caffeina e poi andiamo su Formula 1. Quindi ci vediamo tra pochissimo, tempo 5 minuti. Mi date 5 minuti di tempo? Se me li date bene, se no ragazzi, non so che dire, mi servono comunque. Arrivo. Grazie mille. Un momento solo, arrivo. Grazie mille. 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 Grazie mille.